E' stato ufficialmente aperto il bando di selezione per la terza edizione del Vicenza Short Film Festival, Kermess internazionale del film corto. Tre le categorie di concorso che affiancate a quelle della precedente edizione andranno a rinnovare il festival. Con l'introduzione delle nuove sezioni cambiano anche i criteri di selezione. Si passa da un massimo di 11 a 20 minuti per i cortometraggi e vengono aggiunti i tetti di 52-4 minuti rispettivamente per documentari e videoclip musicali. Confermata la piattaforma filmfreeway.com destinata alle iscrizioni, per le quali ci sarà tempo fino al 7 luglio di quest'anno. In canto infatti alle tre sezioni canoniche dello scorso anno, ossia horror e thriller, drama e social e comedy and comic, ci saranno le sezioni past and future, legato al corto storico e fantascientifico, la sezione docs, aperta ai documentari, e la sezione music video, riservata alle videoclip musicali. È possibile iscrivere i vostri cortometraggi esclusivamente tramite la piattaforma filmfreeway, dal 7 gennaio al 7 luglio 2019. Una terza edizione che si è stata all'insegna dell'innovazione e anche all'insegna della conservazione di quelli che sono i nostri valori. Un festival organizzato dai giovani e per i giovani, un festival che crea, seppur limitatamente, nuovi posti di lavoro. È un festival che mette in moto il motore sociale ed economico nei comuni in cui ha luogo. Crediamo infatti che la cultura e il turismo possano essere dei motori fondamentali per procurare ricchezza nei luoghi in cui vengono attuati. Quindi crediamo allo stesso tempo che la cultura e il turismo diano lavoro e il lavoro, come giusto che sia, vada retribuito, non facendo neve esclusivamente sul volontariato culturale. Presto seguiranno nuovi aggiornamenti su luoghi, premi ed ospiti.